Sembra inarrestabile la crisi che da diverso tempo attanaia il prestigioso istituto educativo palermitano Gonzaga. Bilanci in perdita, nonostante negli anni l'azienda abbia cercato di risanare i bilanci con contratti di solidarietà che hanno convolto tutti i lavoratori della struttura. Il progressivo calo delle iscrizioni ha costretto il centro educativo ad una ristrutturazione aziendale con tagli di stipendi pari al 34%. 31 dipendenti tra bidelli, operai, portieri, giardinieri e assistenti all'infanzia sono a rischio licenziamento. A rendere noto la drammatica situazione dell'istituto paritario è stata la segreteria provinciale della EPLCCGL che assieme alle altre sigle sindacali ha tentato di evitare fino all'ultimo licenziamento e tagli. Già da giorno 5 però i lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento con effetto immediato ed ogni tentativo di accordo è risultato vano poiché l'azienda intende risolvere il deficit strutturale affidando ad una cooperativa il servizio di pulizia, vigilanza e di assistenza. L'istituto religioso fondato nel 1919 dai padri gesuiti in questi ultimi anni ha visto calare progressivamente la popolazione scolastica. Da quasi 1.500 alunni si è passati a meno di 1.000. Per tale motivo una decurtazione del 19% sullo stipendio era già stata operata lo scorso anno. Il nuovo taglio obblicherà 11 lavoratori a rinunciare, mentre per i restanti 20 dipendenti che hanno accettato l'accordo si prevede l'assunzione in una ditta che assicurerà tutti i servizi fin qui svolti da tutto il personale, tra loro anche tre disabili e oltre i sessantenni prossimi alla pensione.